Il 18 aprile prossimo è stata indetta l'elezione del nuovo presidente della provincia di Crotone, carica venuta a mancare dopo il coinvolgimento nell'operazione Stige dell'ex Nicodemo Parrilla attualmente agli arresti domiciliari. Fino ad oggi a traghettare l'ente intermedio ci ha pensato il consigliere più anziano Armando Foresta che insieme ai colleghi è rimasto in carica per senso di responsabilità istituzionale. Adesso lo scenario politico vede l'accesso alla candidatura solo per 7 sindaci del territorio, ovvero Ugo Pugliese di Crotone, Salvatore Di Buono di Cutro, Nicola Belcastro di Contronei, Tommaso Blandino di Roccadineto, Francesco Paletta di Ciro, Umberto L'Orecchio di Pallagorio, Nicola Bilotta di Roccabernarda e Lucio Giordano di Santa Severina. Tre sono i comuni sciolti per mafia, ovvero Ciro Marina, Isola Caporizzuto e Strongoli e i restanti 16 sindaci non possono concorrere alla competizione poiché la legge non prevede la candidatura agli amministratori che sono in scadenza di mandato. Ultimamente i rumors danno in pole position la candidatura di Ugo Pugliese con conseguente elezione dello stesso. Il Partito Democratico Provinciale non è riuscito in questi ultimi giorni a trovare la quadra. I tempi stringono poiché entro il 29 marzo bisognerà presentare le candidature. Da Crotone per la CNews24.